Ecco in un'interrogazione consigliare che il Movimento 5 Stelle vuole puntare alla valorizzazione e all'affidamento dei locali interni dello Stadio Tomaselli. Lo stadio amato dai misseni e soprattutto dagli sportivi che lo vivono settimanalmente, dal calcio al rugby alla scherma alla pesistica fino all'atletica leggera. È lo stadio frequentato da moltissimi ad essere al centro dell'attenzione per proposte che possano valorizzarlo. Lo stadio Tomaselli inaugurato nel 1993 dispone di tantissimi locali e magazzini, stanze, sala stampa, palestra che negli anni sono stati via via un po' dimenticati, abbandonati o utilizzati in vario modo. Tutte le società che fanno attività sportiva lì, e tante sono le discipline, c'è il calcio, il rugby, la scherma, c'è una sala per la pallavolo, c'è il centro di medicina sportiva, hanno bisogno di locali per svolgere al meglio la propria attività. La mia interrogazione tende a stimolare l'amministrazione in modo che faccia una verifica dei locali assistenti e disponibili, una valutazione e si procede a un affidamento regolare a queste società in modo da affidare loro i locali e garantire così la piena fruizione di tutto l'impianto e un'attività piena e sempre più funzionale per i nostri cittadini.